Il nostro film Colpi di Fortuna esce a Natale Per l'esattezza il 19 dicembre Voi nella vita avete avuto un colpo di fortuna? Io no, mai! Magari non divertenti come i nostri Vi vedrete al cinema con Colpi di Fortuna E ricordatevi che quest'anno a Natale La sfiga va in vacanza! Forse La sfiga va in vacanza!